Bene amici, come vedete sulla mia scrivania ho una tastiera, ho un mouse, ho una chiavetta USB ho anche un monitor fantastico, super leggero, super sottile sì, arriverà l'accensione perché l'ho trovato veramente mille usi ho anche uno smartphone ma non ho un PC eh sì, perché oggi voglio raccontarvi come si può lavorare con i telefoni che hanno le interfacce desktop perché se è vero che molti top di gamma hanno l'uscita video o comunque quasi tutti i telefoni possono essere collegati in mirroring quindi andare a duplicare l'interfaccia sulle televisioni con una soluzione del genere difficilmente si può lavorare perché? E perché magari l'applicazione non va in orizzontale perché magari quando io sto utilizzando qualcosa tipo Word mi arriva una chiamata e quindi mi si oscura l'interfaccia e mi si apre giustamente il dial del telefono la home page va solo in verticale, insomma non vanno bene per lavorare e allora mi concentrerò su quei telefoni che hanno un'interfaccia desktop dedicata e quali sono? Beh, tutti i Samsung top di gamma ci sono i Huawei top di gamma e arriverà anche LG purtroppo il V60 non ce l'ho ancora quindi non posso far vedere com'è la sua interfaccia desktop ma partiamo da quella di Samsung cosa serve per attivarla? Un adattatore perché purtroppo l'S20 Ultra ma anche tutti gli altri Samsung attaccando direttamente il monitor con la tipo C fanno solamente mirroring anche secondo me arriverà un aggiornamento software che attiverà DeX anche con il collegamento diretto e allora adattatore che trasforma la tipo C in HDMI magari qua in descrizione ve ne metto un paio io uso questo molto comodo perché è sì anche le porte USB alle quali attaccare mouse e tastiera se non ne avete di Bluetooth e al quale attaccare anche ovviamente l'HDMI del monitor e delle schede di memoria nel caso vi serva leggerle e allora cablo tutto alimento il monitor, ci infilo la HDMI che infilo anche nell'adattatore collego l'adattatore al telefono e Samsung DeX si avvia automaticamente e qua si sdoppia l'interfaccia perché come vedete sul monitor esterno ho una diciamo un'interfaccia utente molto più semplificata sicuramente più adatta a un utilizzo Office e il telefono rimane con la propria interfaccia e con le proprie funzioni per esempio mi arriva una chiamata non mi si interrompe l'interfaccia adesso oppure sul telefono voglio utilizzare quelle applicazioni un pochino più da svago tipo Instagram lo posso fare tranquillamente e sull'interfaccia adesso posso continuare a lavorare la marcia in più degli Android è la possibilità di leggere tranquillamente tutti i file da chiavetta USB io adesso la collego qua all'adattatore e vedrete che mi comparirà qua nel file manager eccola qua, vado giù, vado giù, vado giù memoria di massa 1 io qua dentro ho un po' di file di testa allora vi faccio vedere come si lavora prima di tutto col DeX di Samsung si può fare drag and drop io posso prendere un file e selezionarlo e semplicemente spostandolo sull'interfaccia DeX verrà copiato nella memoria del telefono doppio clic e lo faccio partire ovviamente scelgo l'applicazione con la quale aprirlo e niente, utilizzo Microsoft Excel che funziona molto bene su Android ho quasi tutte le funzionalità della versione per PC funziona molto bene vi faccio vedere qua sopra tutti i vari menu ovviamente lo posso mettere a tutto schermo e questa è la marcia in più perché posso lavorare in maniera molto più comoda rispetto a lavorare sullo schermo del telefono anche in mirroring ma soprattutto posso lavorare in finestre perché se voglio aprire per esempio Word e vi faccio vedere come posso anche aprire un file che ho su OneDrive tranquillamente posso lavorare in parallelo con due finestre vedete posso andare qua a ingrandire Word e anche qua posso fare tutte le modifiche del caso posso andare lì, posso scrivere tranquillamente con la tastiera vedete non c'è nessun tipo di problema e posso anche fare copia e incolla tra applicazioni posso andare a selezionare qualcosa su Word e andare qua di fianco, tasto destro incollarlo qua su Excel quindi un lavoro proprio multitasking ma ho provato a scaricare un po' di applicazioni per capire fin quanto ci si può spingere nell'utilizzo desktop e allora ho scaricato Adobe Acrobat e devo dire che funziona veramente molto bene adesso vi apro qualche file ecco tipo questo che è un PDF molto molto pesante e sono riuscito ad aprirlo tranquillamente posso andare a zoomare in, zoomare out lo vedo molto bene ma ho scaricato, scusate ho chiuso Acrobat in realtà dovevo chiudere solamente il file anche un... non lo trovo qua allora no vabbè vi apro questo qua che è il file di benvenuto e questo file può essere anche modificato col tasto qua in basso destra posso aggiungere un commento, compilarlo, modificarlo o anche andare a firmarlo semplicemente cliccando qua sopra posso anche creare delle iniziali o disegnare una firma ok e poi andarla a incollare in un qualsiasi punto del file e salvarlo come nuovo PDF cosa molto comoda non è una firma certificata ma ci sono app per Android che fanno anche le firme certificate e poi le applicazioni che vanno per la maggiore in questo momento soprattutto di messaggistica ho provato zoom e funziona tranquillamente guardate ho provato a fare un nuovo meeting e funziona sia la videocamera sia l'audio tranquillamente in questo caso ovviamente la videocamera è quella dello smartphone quindi magari bisognerà girarla un attimino ma la cosa bella è che il meeting noi lo vedremo qua sull'interfaccia desktop e avremo il telefono comunque libero per fare altro funziona anche Microsoft Teams e lo vedete qua anche lui lo possiamo mettere a schermo intero rimpicciolire o anche ridimensionare e funziona anche Skype che è un'interfaccia sì ormai un po' vecchiotto un programma che non si usa più tantissimo però se guardate faccio partire il video connessione in corso e si apre tranquillamente adesso suona perché sto chiamando me stesso ma la cosa interessante è proprio che funzioni ovviamente posso usare Netflix per svago e metterlo in una finestra ecco i limiti di Netflix sono un po' sul fatto che non può andare a tutto schermo ma per questo ci sono i Dex Labs dove ci sono delle possibilità che sono ancora in beta di mettere e di forzare le finestre a tutto schermo e la cosa interessante proprio su Dex che si può adattare la risoluzione dello schermo può arrivare fino a una QHD wide questo monitor è full HD e quindi viene mappato uno a uno con la risoluzione full HD e funziona veramente molto molto bene ci sono anche le risoluzioni 16 decimi e 21 noni e poi anche qua tastiera e mouse possono essere settati ma soprattutto anche l'audio può essere fatto uscire dalle casse del monitor oppure dalle casse dello smartphone quindi è molto settabile oltre a ciò qua abbiamo tutte le notifiche che posso vedere anche sul telefono e poi qua posso andare a utilizzare i toggle rapidi un'interfaccia fatta veramente molto molto bene anche per esempio internet lo posso aprire sia con Chrome sia con il browser di Samsung vedete qua e tutto è multitasking per esempio vi apro Facebook e la cosa che mi è piaciuta è che c'è una sorta di ottimizzazione delle applicazioni proprio per l'interfaccia desktop perché le applicazioni vengono un po' diciamo ridimensionate e risettate proprio per l'interfaccia Dex se apro più applicazioni e ovviamente tutte le applicazioni che ho sullo smartphone le posso aprire nell'interfaccia desktop vedete qua c'è l'elenco di tutte le app e cosa andiamo ad aprire? andiamo ad aprire magari riapriamo Skype poi riapriamo Excel poi riapriamo Word poi potremmo aprire anche YouTube insomma ne sto aprendo tantissime la cosa bella è che se vado a ingrandirne una rispetto all'altra posso qua sotto comunque utilizzare il multitasking e passare da un'applicazione all'altra devo dire interfaccia di Samsung migliorata nel tempo era un po' che non la provavo e permette per il 90% delle attività di lavorare veramente da casa in maniera soddisfacente ma adesso stacco l'S20 Ultra e attacco il P40 Pro che anche lui ha l'interfaccia desktop così vediamo anche le differenze stacco tutto e la cosa bella è che stacco proprio tutto perché con Huawei basta un semplice cavo tipo C collegato dal telefono al monitor e non serve null'altro perché l'interfaccia desktop guardate si attiva direttamente adesso non l'ho attivata ma basta fare così in modalità desktop però è entrato in modalità mirroring guardate si attiva e voilà questo ha un grosso vantaggio ovvero quello di non dover portare in giro niente di aver solamente un cavo di non dover neanche alimentare il monitor perché l'alimentazione al monitor arriva direttamente dal tipo C lo svantaggio è quello vabbè che si scarica molto più velocemente il telefono e che non posso collegare chiavette USB direttamente al telefono ma questo non vuol dire che non funzioni questo adattatore questo adattatore funziona comunque ma è una possibilità in più quella del collegamento diretto ho ricollegato bluetooth e tastiera e le funzioni sono simili c'è da dire che l'interfaccia del desktop di Huawei è un po' meno curata ma chi se ne frega andiamo a vedere se le funzioni ci sono tutte per esempio apro office col doppio clic proviamo a aprire il file di Word lo stesso che avevo aperto prima proviamo a zoomarlo e devo dire sì che le funzioni sono le stesse ovviamente l'applicazione è la medesima che si trova sullo store di Huawei quindi non ho dovuto fare magheggi per installarla perché vi ricordo che sul Huawei non c'è lo store di Google e non ci sono le Google App ovviamente prima non vi ho detto che su Dex di Samsung funziona la posta elettronica perché va da 6 Gmail funziona perfettamente anche il client di posta diretto di Samsung ovviamente funziona anche l'apertura dei PowerPoint anche i PDF Adobe Acrobat anche su Huawei funziona alla stessa maniera e magari ve lo lascio qua aperto guardate apro il file di benvenuto e stessa cosa posso tranquillamente andare a leggerlo andare a modificarlo andare a compilarlo e firmarlo però attenzione guardate mi l'aveva detto quando l'avevo installato che Adobe senza i servizi Google poteva avere qualche problemino e in effetti la modifica dei file funziona se siete abbonati alla Creative Cloud ma il compile firma per esempio non funziona mi dice che ha qualche problema con la cache dei Play Services ovviamente non ci sono e quindi questa cosa purtroppo non si può fare vi faccio vedere come funziona Facebook che funziona tranquillamente ieri l'ho utilizzato senza nessun tipo di problema cosa funziona anche andiamo a vedere Zoom che no non si trova nello store di Huawei allora facciamo così proviamo a fare un nuovo meeting ok si funziona qua non ha preso l'orizzontalità del telefono bisognerebbe girare il telefono eccolo qua per avere la videocamera in verticale quindi funzionicchia diciamo però le funzionalità diciamo ci sono tutte una cosa che volevo vedere era se andava in finestra e anche se faccio start meeting si rimane in finestra ok comodo perfetto e l'altra cosa che volevo vedere ieri ho provato e funzionava se funziona anche Skype andiamo qua vediamo proviamo a fare una chiamata anche qua sto chiamando me stesso si funziona tranquillamente in orizzontale questa applicazione è ottimizzata e anche Microsoft Team non funziona vedete senza Google Play Services allora o meglio ho provato a fare un giro sulle funzioni principali ci sono ma per esempio la video call non funziona funziona invece bene il browser web dove posso tranquillamente navigare sul mio blog funziona bene la tastiera via bluetooth anche qua abbiamo la possibilità di passare da un'applicazione all'altra semplicemente qua sotto andando a cliccare sulla barra ho una funzione interessante che non c'è sul Samsung ovvero questa quella di far diventare il blocco note una lavagnona sulla quale si può andare a scrivere anche con il mouse attenzione perché se lo schermo fosse touch avremmo anche la possibilità di utilizzarlo in maniera touch e questa è una cosa che trovo molto comoda anche qua posso selezionare il dispositivo su cui esce l'audio quindi il monitor se ha le casse oppure il telefono e anche qua ho la possibilità di guardare tutte le notifiche e i toggle e i toggle rapidi non ho visto come funziona sto dicendo una stupidata youtube perché youtube ovviamente può funzionare solamente da browser web e niente mi sembra che l'interfaccia desktop di huawei sia un pochino più acerba è vero che si può utilizzare tutta la suite office è vero che le applicazioni di video chat che si usano di più di video riunioni funzionano ma funziona tutto un filino meno bene tutto un filino meno ottimizzato rispetto a Samsung però è anche vero che si può utilizzare anche qua il telefono come touchpad ed ecco qua la possibilità ovviamente poi quando devo inserire del testo oltre al touchpad si apre anche la tastiera ma ripeto tastiera e mouse collegati sia in bluetooth oppure in maniera fisica se avete un adattatore di questo tipo li trovo decisamente più comodi può una postazione del genere andare a sostituire un pc si per tutte quelle operazioni abbastanza basic ovvio che se dovete far girare autocad archicad cose tridimensionali matlab o qualsiasi altra applicazione molto specifica beh lì sarà molto più complicato ma per la segretaria per l'impiegato ma anche per il dirigente che utilizza solamente le mail e il pacchetto office è un'ottima soluzione per essere leggeri comodi per non utilizzare il pc perché magari non lo so l'avete lasciato in ufficio siete a casa ma ci possono essere mille motivi si è rotto serve al figlio per fare le lezioni a scuola oppure anche per uno studente può essere interessante utilizzare questa modalità se non ha esigenze particolari ripeto tra le due interfacce desktop ho preferito quella di di samsung ma ho preferito la modalità di collegamento Huawei direttamente con un cavo al monitor e si attiva l'interfaccia desktop veramente super super comodo spero di provare presto lgv60 perché anche lui avrà un'interfaccia desktop spero con questo video di essere stato un pochino utile e si questa è una figata arriverà presto recensione ciao 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 Grazie a tutti